Ciao a tutti, benvenuti al mio canale. Benzema potrebbe essere il nuovo giocatore della Juve. In base all'ultimo titolo di calcio mercato, tanti andano a Benzema molto vicino alla Juve. Infatti sono delle forte che hanno visto allenarsi come un pallone della Juve. Si dice anche che Ronaldo è uno di quelli che vorrebbe tanto a Benzema alla Juve, perché quando erano insieme all'Armadate, Benzema era il tipico giocatore che aiutava molto Ronaldo a fare tanti gol. Quindi secondo me Ronaldo quest'anno per rimanere alla Juve vorrà tante garanzie e vorrà, la prima richiesta di Ronaldo per rimanere alla Juve sarà proprio Benzema. Quindi io sono sicuro che Benzema sarà un nuovo giocatore della Juve. Solo per questo, perché Ronaldo non vuole più fare figura di merda in Champions League. che è la sua competizione. Per me Ronaldo e Benzema saranno il nuovo giocatore della Juve. La mia scommessa. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.